Benvenuti nella rubrica Film al Cinema, dove si recensisce un film appena visto in sala al sottoscritto. Il film di oggi è The Batman, cominciamo! Film di Matt Reeves, con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Colin Farrell, John Torturro e Andy Serkis, del 2022, un serial killer terrorizza Gotham City, uccidendo politici e poliziotti corrotti. Sulla scena del crimine lascia sempre un enigma da risolvere e un biglietto personalizzato con sopra scritto per Batman. Batman che dovrà interfacciarsi con un sistema marcio fino al midollo e un passato che tornerà a perseguitarlo. Come Stanley White in Lano del Dragone, il più celebre supereroe senza superpoteri, che mai come in questo caso prende tante fucilate e calci nello stomaco, si trova solo a combattere una corruzione sempre più dilagante, che lo farà dubitare di se stesso come nei migliori noir. Cresciuto portando sul petto lo stemma dei Wayne e lottando in seguito per onorare il padre e il suo operato, scoprirà verità sconcertanti che lo porteranno quasi a rinnegare se stesso e i suoi padri putativi. Crisi di identità che colpirà anche Catwoman, una volta conscia di essere stata ingannata. Questo conflitto con il passato è una delle poche sfumature, insieme al diario segreto in cui Bruce Wayne riversa tutti i suoi sensi di colpa e le sue perplessità interiori, che il regista aggiunge ad una saga che per il resto viene ricalcata con i suoi stereotipi e le sue tematiche. Vediamo l'uomo Pistrello sentirsi in colpa, poiché percepisce che le sue gesta non fanno altro che incrementare la malavita e la follia per le strade. Ogni ritrovamento di cadavere è sofferto, perché leggere per Batman da parte del killer sembra essere l'unico riconoscimento perverso e malato che gli arriva in cambio delle sue azioni eroiche notturne. In più, le somiglianze tra lui e Villain che affronta non fanno altro che confermare la percezione di una città che invece di migliorare, peggiora con la sua presenza. Somiglianze messe in risalto dall'enigmista, che l'esplicita negli indovinelli e nei nomi degli antagonisti. Il falco e il pinguino, proprio come il pipistrello, sono animali con le ali e legami con i cattivi di turno, purtroppo per la ziche fragile dell'eroe, non finiscono qui. Altra tematica che il film tratta, rimanendo fedele allo spirito della saga, è la speranza finale che il supereroe si impegna a dare a Gotham dopo una specie di apocalisse, di diluvio universale, scatenato da criminali che si ergono a divinità, in un film in cui la speranza in realtà è quasi assente. Infatti, nonostante lo slancio positivo finale, è incancellabile la smorfia e il dolore di Batman quando vede un altro esempio di follia generata dal suo ruolo di vendicatore. Infatti, uno dei tanti nemici parla utilizzando le frasi usate spesso dal Cavaliere Oscuro prima di scontri corpo a corpo. Vediamo un Bruce Wayne geloso della sua doppia identità in una sequenza che sembra la pessimista risposta alla scena del treno in uno dei cinecomic più belli della storia del cinema, ovvero Spider-Man 2 di Sam Raimi. In quest'ultima, la popolazione scopre l'identità di Peter Parker, ormai tramortito, ma lo protegge mantenendo il segreto. Invece qua, appena il protagonista rimane KO, dopo un'esplosione, tutti i poliziotti, molti dei quali sono corrotti, cercano di strappargli la maschera con violenza. Quello che non funziona è un villain che nell'esporre le sue motivazioni si piange un po' troppo addosso e che vorrebbe anche far intuire allo spettatore delle riflessioni sulla pericolosità dei social. Il suo piano terrorista conquista 500 follower su Instagram, che lasciano il tempo che trovano per banalità e ridondanza. Il quesito, che occupa gran parte delle indagini, poi viene accantonato e ciò potrebbe infastidire gli spettatori più puntigliosi. Sparatorie e inseguimenti magistrali, che giocano sul contrasto tra luci e ombre dove l'eroe rimane nascosto anche quando scrive a pallottole, e che sono però appesantiti da una durata eccessiva. C'era davvero bisogno di un altro film su Batman? No! Il film non si discosta molto nella meccanica narrativa della sontuosa saga di Christopher Nolan, se non per qualche lieve introspezione in più. E infatti, si cita apertamente il secondo capitolo, uno dei film più belli della storia del cinema e non per quanto riguarda soltanto i cinefumetti. C'è infatti una scazzotata in discoteca e un interrogatorio tra Batman e l'antagonista, che non può non ricordare l'iconica scena del Cavagliere Oscuro. Si tratta di un dignitoso prodotto di genere, anche se non particolarmente necessario. Voto sette e mezzo!